Sara Toscano ha vinto amici di Maria De Filippi, qua se volete recuperare tutti i podi dei vari anni, e lo ha fatto a fuoror di popolo conquistando tutti i televoti aperti. Le percentuali, a volte, sono state schiaccianti. Le percentuali dei televoti. Il primo televoto che è stato aperto sui quattro cantanti per decretare il primo eliminato, è stato vinto da Sara con il 40,5% delle preferenze, seguita da Petit, 27,4%, Holden, 21,2%, e ultimo Mida, 10,9%. Anche il secondo televoto, tutto sui cantanti, è stato vinto da Sara, 44,8%, seguita da Petit, 30,2%, e ultimo Holden, 25%, che è stato eliminato. Infine ne è stato aperto uno su Sara e Petit che ha visto la prima trionfare con il 54,8% delle preferenze, contro il 45,2%. Il televoto aperto fra Marisol e Dustin è stato vinto da lei, 65,4%, contro il 34,6% di lui. Infine c'è stato l'ultimo, quello decisivo, fra Sara e Marisol. L'esito lo conosciamo, anche se è stato il televoto più combattuto di tutti. 53,4% la cantante, 46,6% la ballerina. Ecco il grafico con tutte le percentuali. Sara Toscano, è stata la sesta cantante donna a vincere Amici di Maria De Filippi dopo Giulia Ottonello, 2 a 100 circonflesso edizione, Alessandra Amoroso, 8 a 100 circonflesso edizione, Emma Marrone, 9 a 100 circonflesso edizione, Deborah Iurato, 13 a 100 circonflesso edizione, e Gaia, 19 a 100 circonflesso edizione, I vincitori di Amici. Nel dettaglio hanno vinto 12 cantanti maschi, 6 ballerini, 6 cantanti donne, 1 ballerina, 1 a 100 circonflesso Dennis Fantina, 2 a 100 circonflesso Giulia Ottonello, 3 a 100 circonflesso Leoncino, 4 a 100 circonflesso Antonino, 5 a 100 circonflesso Ivan D'Andrea, 6 a 100 circonflesso Federico Angelucci, 7 a 100 circonflesso Marco Carta, 8 a 100 circonflesso Alessandra Amoroso, 9 a 100 circonflesso Emma Marrone, 10 a 100 circonflesso Danny Lodi, Virginio, 11 a 100 circonflesso Giuseppe Gioffre, Gaetano Pulli, 12 a 100 circonflesso Moreno, 13 a 100 circonflesso Deborah Iurato, 14 a 100 circonflesso The Colors, 15 a 100 circonflesso Sergio Silvestre, 16 a 100 circonflesso Andreas Muller, 17 a 100 circonflesso Irama, 18 a 100 circonflesso Alberto Urso, 19 a 100 circonflesso Gaia, 20 a 100 circonflesso Giulia Stabile 21 a 100 circonflesso Luigi Strangis, 22 a 100 circonflesso Mattia Zenzola, 23 a 100 circonflesso Sara 22 a 100 circonflesso Sara Grazie a tutti.